Tragedia a Noale, in provincia di Venezia. Tommaso Tiepolo, consigliere comunale di soli trent'anni, è deceduto nella notte tra il 24 e il 25 novembre a causa di un malore improvviso. Tommaso, fresco sposo, aveva celebrato il matrimonio con Giorgia, farmacista e sua coetanea, lo scorso 7 settembre. Recentemente, aveva intrapreso un nuovo percorso professionale presso l'ufficio sport di Vedelago, in provincia di Treviso. A darne il triste annuncio è stato il comune di Noale, attraverso un toccante post sui social. Tommaso era un giovane pieno di entusiasmo, con mille progetti e un carattere solare e coinvolgente. Aveva tante idee per la sua città e per Briana, la sua frazione. Entrato in consiglio comunale con la legislazione Andreotti, aveva ricevuto la delega alle politiche giovanili, dedicandosi con passione all'organizzazione di eventi e iniziative. Tommaso era molto attivo nella comunità locale, volontario tra i più giovani della protezione civile, protagonista del gruppo musici e sbandieratori Tempesta e della contrada di San Giovanni e promotore di podcast sulle eccellenze della città. Si impegnava anche nell'apertura della torre del piccolo museo della civiltà contadina, portando avanti numerose attività associative. Il post si conclude con un messaggio di vicinanza alla famiglia. Esprimiamo il nostro pensiero affettuoso per Giorgia, i genitori Maurizio e Ivana, il fratello Lodovico e tutti coloro che gli erano vicini. Il sindaco, la giunta, il consiglio comunale e tutta la cittadinanza sono profondamente scossi. Il ricordo di Tommaso sarà un faro per continuare il servizio alla nostra comunità. Grazie per la visione! Iscriviti al canale e attiva la campanella, per noi è importante! Resta sempre aggiornato!